rieccoci di nuovo in diretta sempre dagli studi qui di le fonti tv per questo prime time della maratona 8 marzo donne e lavoro parleremo in questo spazio di leadership di cura e lo faremo con un ospite che è venuta proprio qui a raggiungerci nei nostri studi un ospite a cui io naturalmente do il benvenuto e ringrazio si tratta di valeria cantoni mamiani che è filosofa saggista ma anche professoressa docente all'università cattolica di milano e autrice appunto di questo testo leadership di cura innanzitutto benvenuta grazie per essere nostra ospite grazie a voi per l'invito buonasera a tutti professoressa io vorrei partire proprio dalla copertina di questo libro perché si parla di leader e qui abbiamo dei leader di livello globale planetario donald trump joe biden angela merkel e abbiamo notato in questa chiacchierata preliminare fuori onda che ne manca uno uno che è molto importante perché protagonista in negativo naturalmente delle vicende dell'attualità di questi giorni si tratta di vladimir putin le volevo chiedere innanzitutto c'è un po magari di frustrazione da parte sua nell'aver scritto un libro di leadership di cura in questo momento storico in cui stiamo assistendo in realtà a una dimostrazione muscolare di forza che con la cura ha molto poco a che fare sì innanzitutto è vero manca il grande assente perché ho pensato quando abbiamo pensato alla copertina ho pensato proprio a due squadre con orlando previ che ha fatto l'illustrazione a due squadre dove non è che ho messo i buoni cattivi però insomma ho messo tre leader che in quel momento lì mi sembravano rappresentare in qualche modo una leadership di cura e tre invece che proprio rappresentavano l'opposto per cui bolsonaro erdogan e trump certo manca manca putin certo che sento frustrazione e ma più che altro sento frustrazione perché mi sembra di essere tornata non dico al medioevo ma forse anche prima mi sembra di essere dentro a quelle serie tv sui vichinghi dove tutto quello che conta è appunto la muscolatura la forza bruta il sangue la logica adesso portata in termini più legati al libro la logica del o vinco io e muori tu o vinci tu e muoio io e questa è veramente una logica poco interessante e poco generativa in questo momento soprattutto dopo due anni di pandemia certo si arriva proprio insomma alla fine già di un periodo storico difficilissimo un conflitto che che nessuno si aspettava e questo ci ha sorpreso in maniera negativa ma ripartiamo dalle parole appunto dalla parola leadership e soprattutto dalla parola cura e io mi rifaccio direttamente al suo testo perché lei dice la cura non è un paternalismo autoritario ma nemmeno un maternalismo accudente e allora come possiamo definirla qual è la caratteristica principale della cura secondo lei ma dunque innanzitutto la cura nella nostra cultura è legata alla malattia io ho voluto spostarla dalla patologia e inserirla nelle relazioni umane per cui innanzitutto la cura diciamo non 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 il maternage no che la coccola e neanche la diciamo la cura che prevede una decisione autoritaria di che cosa è bene per l'altro in questo senso né uno né l'altro è una sorta di attenzione e di e di e di accoglienza nel a responsabilizzare l'altro per cui nel dare autonomia e contemporaneamente nell'ascoltare quali sono i suoi reali bisogni per cui prendersi cura sapersi prendere cura di sé e degli altri vuol dire saper riconoscere i propri bisogni in questo momento per esempio il bisogno che noi abbiamo è di curare i nostri pensieri in questi giorni perché i nostri pensieri sono ossessionati anche dall'informazione e da quello che sta avvenendo e dall'altra parte è prendersi cura dell'altro vuol dire ascoltare e riconoscere i bisogni dell'altro e negoziare con questo con i nostri bisogni e bisogni dell'altro ma innanzitutto bisogna riconoscerli per cui bisogna avere una una un'attenzione ma soprattutto una consapevolezza su quello che è la grammatica delle nostre emozioni dobbiamo reimparare la grammatica delle nostre emozioni i nostri pensieri emotivi non abbiamo il cervello da una parte la mente da una parte il cuore dall'altro siamo tutta una cosa sola tant'è vero che in questi giorni che le nostre emozioni sono frastornate da da quello che sta accadendo i nostri pensieri come dire viaggiano di pari passo per cui pensieri di fuga pensieri di attacco e fuga pensieri di apocalittici e così per cui insomma sapersi prendere cura vuol dire anche saper gestire le proprie emozioni quelle altrui ecco ma visto che siamo all'interno della maratona dell'otto marzo in cui si parla appunto soprattutto di donne la cura secondo lei è una caratteristica prevalentemente femminile e poi le lancio anche questa provocazione se avessimo più leader donne e per quanto riguarda le aziende e per quanto riguarda le nazioni ci troveremo in questo momento in una situazione diversa parto dalla seconda allora ho proprio fatto un post ieri su linkedin mettendo in fila i leader uomini che hanno portato parti del mondo in guerra peraltro ci sono anche molti democratici americani democratici e subito mi hanno risposto dicendo ah ma insomma non è una questione di genere è vero perché la Thatcher sicuramente è stata come dire non una come dire una una dolcezza e anche anche la Meir anche lei come dire Golda Meir ricordiamoci in Israele anche lei non è che proprio la metteva giù leggera detto questo io credo che le donne potrebbero come dire un femminile è consapevole potrebbe fare la differenza se e solo se noi diventiamo capaci di non stare dentro la logica paternalistica patriarcale autoritaria e cioè se giochiamo una partita diversa se impariamo a giocare una partita diversa e non a sottostare a quelle che sono le regole di una cultura fondamentalmente maschilista che ci ha portate fino adesso e in cui ancora siamo allora potremmo fare la differenza allora delle leader donne potrebbero fare la differenza ma solo se non si mettono a come dire a fare la brutta parodia degli uomini perché altrimenti come dire non c'è non è una questione di genere è una questione di persona però ecco penso che su questo c'è una sociologa che io ho citato tanto nel libro che si chiama Ryan Eisler che ha scritto dei libri magnifici sulle culture preistoriche sulle culture dell'età minoica dove c'era una appunto una società che non era matriarcale non era matriarcale ma lei la chiama la società della partnership dove donne e uomini avevano ruoli diversi ma i ruoli delle donne valevano tanto quelli degli uomini questo è il punto allora per tornare alla prima domanda se la cura è una caratteristica femminile sì è una caratteristica femminile perché noi vediamo ancora oggi i come dire i lavori di cura sono presso che presso che agiti dalle donne per cui parliamo delle badanti parliamo di infermieri gli insegnanti ok tutto e caso caso vuole che sono anche i mestieri meno pagati anche prendersi cura della casa no e prendersi cura e per cui i mestieri della cura sono i mestieri meno pagati e sono ancora svolti molti non tutti da donne per cui questo potrebbe dovrebbe farci riflettere su quanto la cura sia considerata dalla nostra società ancora qualche cosa di residuale di non prioritario peccato che a un certo punto è arrivato il covide e ci ha fatto capire come questa crisi sia una crisi di cura innanzitutto e oggi con il conflitto comprendiamo come anche come dire relazioni così violente così malintesi così catastrofici siano anche causati da grosse carenze di cura anche nei rapporti anche nella nella tensione nella cura della comunicazione ecco sì lei mi ha toccato appunto una prova fondamentale c'è cura dei rapporti delle relazioni io adesso sposto la lente di ingrandimento soprattutto sul mondo del lavoro sulle aziende e vorrei farle commentare questa relazione se c'è perché noi stiamo assistendo in questo momento al fenomeno della big resignation la chiamano così gli americani c'è il fenomeno delle grandi dimissioni che riguarda e appunto gli stati uniti ma anche nel nostro paese cioè persone appunto che hanno un posto di lavoro che magari è anche discretamente retribuito ma che decidono in realtà di abbandonarlo in cerca di qualcosa di meglio ecco secondo lei c'è una correlazione tra appunto la big resignation e la mancanza di una leadership di cura cioè molti lavoratori se ne vanno perché dal punto di vista umano non economico non sono sufficientemente valorizzati dai loro capi? Assolutamente sì assolutamente sì consideriamo che la questione economica non è mai prioritaria nel senso che le persone devono avere un salario adeguato e devono sentire di essere pagate per quello che valgono cosa che non sempre capita ovviamente però le persone soprattutto devono stare bene devono sentirsi bene devono trovare un senso per alzarsi la mattina e andare a lavorare in quel posto lì dunque il senso cos'è? Avere un obiettivo rilevante avere una missione stare dentro a una società a una organizzazione che gli dà un senso in qualche modo che fa capire che stanno facendo delle cose importanti ma soprattutto essere riconosciuti il lavoro delle persone deve essere riconosciuto non solo economicamente ma anche attraverso pratiche di gratitudine per esempio anche un semplice grazie o attraverso una cosa che manca tantissimo nelle organizzazioni i famosi feedback positivi molte volte i manager, i dirigenti fanno notare quello che non va nel lavoro delle persone ma quando qualcosa va raramente fanno notare anche quando qualcosa va ringraziano raramente danno un feedback positivo e questo è determinante ma è difficilissimo però modificare un bias mentale quando questo c'è un pregiudizio che ci portiamo dietro da anni, da decenni e che riguarda appunto la figura del manager come si insegna i manager a diventare da capi a leader e se ha qualcosa da suggerire proprio dal punto di vista pratico non so, dei corsi di formazione l'introduzione penso della figura di uno psicologo o di un coach all'interno delle aziende per i manager non per i dipendenti ma allora è il mio mestiere faccio questo io nella vita faccio soprattutto formazione e disegno percorsi di trasformazione per i manager proprio in questa direzione per cui sì, noi abbiamo con la mia società che è Arts4 disegnato percorsi di formazione in questo senso ma diciamo che è un gran lavoro di riconnessione dei manager con se stessi o con se stesse per cui innanzitutto noi partiamo da un lavoro di ricontatto con quelle che sono le proprie emozioni anche le proprie paure e i propri bisogni questo è il punto di partenza cioè non avere paura delle proprie emozioni non avere paura di esprimerle e imparare a nominarle da qui in poi ci si può incamminare verso una strada che è indirizzata alla comprensione diciamo all'empatia alla comprensione dei bisogni e dei sentimenti degli altri o anche delle ragioni dell'altro perché non sempre se hai ragione io hai torto tu e questa è una cosa che facciamo molta fatica a capirla nel nostro paese anche perché c'è questa cattiva abitudine cioè di associare il termine appunto di leader non con la parola cura ma con altre parole che riguardano efficienza produttività, guadagno senza in realtà pensare che il guadagno in realtà aumenta se la persona si sente valorizzata però questo è un passaggio culturale che nelle aziende è ancora difficile secondo me da attuare lei quanta resistenza trova? ma allora stanno cominciando a capire che il benessere delle persone soprattutto le relazioni generative sono uno strumento di time management cioè fanno risalmiare tempo perché poi gestire i conflitti io poi mi occupo di mediazione dei conflitti gestire i conflitti diventa una cosa che di tempo ne fa perdere tantissimo e soprattutto fa perdere tantissima energia che è un altro elemento fondamentale oggi credo che ci sia un po' più di sensibilità su questo diciamo che sicuramente nei dipartimenti di risorse umane delle organizzazioni c'è una buona consapevolezza di questo non sempre questa consapevolezza si abbina con un comportamento adeguato cioè con un comportamento dei manager anche dei manager HR cioè delle risorse umane che questa cosa non solo l'hanno capita ma poi la mettono in pratica questo ancora è un salto da fare però c'è da questo punto di vista noi vediamo anche con le aziende con cui lavoriamo che c'è sensibilità anche nelle aziende dove questa sensibilità c'era meno tipo le aziende della moda per esempio le aziende della moda che tra l'altro sono tra le più penalizzate poi dalla situazione che sta succedendo insomma perché sappiamo che molto del business soprattutto del lusso poi è rivolto alla Russia e quindi insomma la situazione è sempre molto così allarga e abbraccia diversi fattori un'ultima domanda le voglio rivolgere professoressa perché lei ha citato un fattore molto importante quello della pandemia del covid che ha stravolto completamente le nostre abitudini e anche appunto il concetto di leadership per due motivi l'introduzione massiccia della tecnologia che da una posizione di verticalità della girarchia ne ha portata ad una invece più orizzontale e poi anche il fatto del lavorare da remoto che rende i dipendenti sempre più lontani dal centro del controllo e del potere quindi insomma questi due fattori hanno sconvolto il concetto vecchio di leadership ma quanta voglia c'è in seguito alla necessità che ha portato appunto la pandemia di imprimere effettivamente una spinta qualitativa a questo nuovo capitalismo che noi stiamo vivendo perché si sente molto spesso ne usciremo migliori impareremo lezioni cercheremo di fare meglio dopo queste vicende che dall'esterno ci hanno colpito ma in realtà se un cambiamento non viene dall'interno poi è difficile attuarlo o mi sbaglio? Sì, allora ha toccato diversi punti lo riassumo tutto dicendo che ci siamo scoperti vulnerabili per la prima volta noi eravamo anche prima vulnerabili ovviamente il genere umano è vulnerabile da sempre come le piante, gli animali tutti gli esseri viventi nascono, si ammalano, muoiono però adesso ce ne siamo resi conto anche le persone, quelle più stolide si sono resi conto di essere vulnerabili questo cosa ha portato? Ha portato nelle organizzazioni organizzate da remoto a mettere in luce per la prima volta quelle persone diciamo più vulnerabili più fragili magari perché avevano avuto non so, una malattia o avevano avuto dei lutti insomma erano più esposti emotivamente ma essendo più esposti emotivamente erano anche quelle più attenti agli altri più disposti ad ascoltare gli altri quelle persone lì che sono le meno efficienti in una logica di iperproduttività e di performance quelle persone meno performative tradizionalmente sono diventate i nuovi eroi perché? perché hanno saputo tenere insieme le persone hanno saputo chiamare i colleghi e chiedere come stai oggi hanno saputo ascoltare ore ad ascoltare è produttivo quello? no ma in realtà sì perché ti occupi delle persone che poi devono essere produttive per cui come si è un po' ribaltata la logica e quei leader quei manager che hanno saputo fare questo hanno fatto la differenza hanno tenuto insieme gruppi che altrimenti si sarebbero sfilacciati e all'inizio quasi tutti ossessionati dal controllo con call 10 call al giorno poi hanno capito che le persone avevano bisogno di autonomia richiedevano autonomia e quelli più intelligenti questa autonomia l'hanno data e sono diventati autorevoli sono diventati autorevoli la differenza tra capo e leader sicuramente passa tra l'autorità e l'autorevolezza che sono due concetti insomma differenti io la ringrazio tantissimo faccio rivedere il suo libro della professoressa Valeria Cantoni Mamiani il leadership di cura dà il controllo alle relazioni speriamo insomma di vedere poi dei volti diversi all'interno della copertina soprattutto una percentuale di leader di cura superiore rispetto insomma a questa e speriamo che naturalmente poi la situazione soprattutto in Ucraina e in Russia migliori io la ringrazio per essere stata nostra ospite qui alla maratona dell'8 marzo grazie davvero grazie a lei arrivederci a tutti bene allora noi abbiamo terminato con questo spazio un piccolo break pubblicitario poi mi raccomando restate sempre qui sulle fonti tv perché la maratona donne lavoro continua parleremo di donne molto particolari le donne dell'odissea e poi naturalmente vi sveleremo il perché grazie a tutti grazie a tutti